Che cosa ha dovuto fare? Cerchio e Seno attraverso NT 23 aprile 2004 a cura di VB domanda Il fattore sociale può influire nella decisione di reincarnarsi? Nota! L'entità Antonello è la guida fisica del Cerchio e Seno preposta ai fenomeni fisici. Antonello, mi avete fatto una domanda che mi fa sentire importante e mi sento onorato di esprimervi il mio pensiero su questo argomento. Dunque, prendiamo il caso dell'Antonello. Io ora so bene che ho fatto determinati errori. So che qualche cosa non l'ho fatta bene nella mia vita. E non parlo solo della mia ultima vita. E so che dovrò rimediare. Ma solo con la prossima incarnazione potrò fare questo. Mi seguite? Mettiamo che io ho fatto del male con la mia ricchezza, per esempio. Anzi, calma, calma. Ne faccio un altro molto più calzante. Il giullare, ve lo ricordate? Ecco l'esempio giusto, lampante. Cosa ha fatto il buon giullare? L'ha detto anche a voi, vero? L'è stato un troiaio in vita. Era ricco, nobile, bello. E ha usato male questi suoi doni. Perché in fin dei conti non è che avesse fatto qualcosa per guadagnarseli. L'era nato ricco. L'era stato depositato. In una casa di signori ed aveva vissuto come un signore. Però ha usato male quei doni e ha offeso chi era povero. Ha sfruttato i suoi simili. Ha fatto soffrire per la sua bellezza altre creature. Eccetera, eccetera. Bene, che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto aspettare il concretizzarsi di determinate circostanze. Innanzitutto ha scelto il paese. La nazione non poteva nascere in una nazione ricca, sviluppata. Se voleva essere sicuro di sperimentare la povertà. Povertà, mi seguite? Il buon giullare ha dovuto aspettare, scegliere innanzitutto il paese. Che in questo caso è stato l'Honduras. E poi ha dovuto aspettare che anche altre entità, insieme con lui, decidessero di reincarnarsi. Per esempio, quella entità che dovrà avere la circostanza, e non manca molto perché ciò si verifichi, di derubarlo e di quelle poche cose che ha, e addirittura di togliergli la vita. Provo a farvi un altro esempio. Ammettiamo che qualcuno di voi in questa incarnazione non abbia fatto qualcosa per il suo prossimo, perché magari non ha raggiunto le condizioni sociali necessarie, perché gli mancavano i mezzi, eccetera. Avrebbe voluto fare tanto per il prossimo, ma ne è stato impedito da queste difficoltà. E allora, quando chiuderà questa parentesi, tirerà le somme della sua esperienza umana, e potrebbe dire a se stesso. Non ho potuto fare questo, e quello, come faccio a farlo? Serve per la mia evoluzione, sento che devo fare queste opere di bene, queste azioni positive. Perciò questa entità non si potrà reincarnare in una baraccopoli, o in una borgata, dove la sua condizione sociale difficilmente gli potrebbe consentire di raggiungere quel livello sociale che gli permetterebbe di disporre della ricchezza necessaria per verificare e affrontare la sua prova nei confronti del prossimo. Per realizzare questo programma potrebbe aspettare il momento storico più favorevole, il momento in cui la società si sarà sviluppata, creando situazioni favorevoli alla sua prova. A questo proposito, tenete presente che tante entità evolute si stanno preparando a reincarnarsi su questa Terra. Ma non tanto perché hanno bisogno delle prove che questo pianeta può loro offrire, ma proprio per aiutare questa umanità ad evolversi. Quindi se ci saranno tante brave persone, ci saranno anche meno mascalzoni, dico io. Quando voi vi guardate intorno e assistete a quei fatti che possono sembrare negativi, tanto male, tanto odio, tanta... mi stanno suggerendo paroloni, ecco. Quando assistete ad una recrudescenza del male, bella questa, la voglio ripetere, recrudescenza del male, ebbene, oggettivamente le cose non stanno proprio così. Sì, il fatto vero è che ci sono entità che vengono da mondi inferiori rispetto alla Terra, dove questi spiriti le erano i migliori, ma passati su questo pianeta, spiritualmente più evoluto, sono risultati i peggiori. Allora, io ho detto quello di cui sono capace. Spero di essere riuscito a darvi almeno l'idea. Spero di essere riuscito a darvi almeno l'idea.